Lascia un ragazzo vuoi? Sì Io l'avevo fatto su un censo L'avevamo fatto l'altaria Oh no, qua non c'è il poggiapiedi No, non è che non lo fa, non lo fa perché le chiedono di non farlo Mi piace questa sbarra stupidissima Sì? Sì Almeno è breve Questa è stata solo per attraversare la strada Sì Prima si attraversava a piedi L'altra volta che siamo venuti abbiamo dovuto fare a piedi Sì, infatti, non l'avevo messo lì da questa Era del 2015 Quindi adesso anche tornando indietro che si arriva di lì Però se vuoi prendi lì La BMC Sì No, prendi questa e poi scendi di là Sì La BMV Sì No, prendi questa, dopo scendi dall'altra parte Sì Dobbiamo farlo quel bel cosa lì Sì No Andiamo su voi Andiamo a fare la... Quello è bello da fare No, dobbiamo prendere questa qui che abbiamo davanti La Colburse Questa? Sì 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 E poi scenderemo poi di là No, si scende dall'altra parte È bello quello Però non è nel giro Questa sarebbe stata nel giro al contrario No, neanche Questa è a parte, non è nessuno dei due giri Perché nel giro dall'altra parte si arriva di là Questa è furba però perché porta gente sia avanti che indietro e carica continuamente È certo È una seggio via ad alto rendimento Ma sicuramente a loro ha fatto... Sì, è un gran investimento Che viene sempre ottimizzato Sì, fa malissimo Ce n'è anche una 8, vero? Ce n'è una 8, sì Senza appoggiapiedi No, credo che ce l'abbia quella No, si apre da sola No, si apre da sola No, è un male che ci siano altre cose Non ci dovrebbero essere perché da un fastidio Però... Boh